Io penso una cosa, che con un approccio come quello che lei ha, il problema dell'immigrazione in Italia, l'immigrazione incontrollata sto parlando, non quella regolare, o quella che arriva da paesi dove effettivamente si fanno delle guerre, quindi io andrei a prenderli là addirittura in Siria, non aspetterei che arrivino qua con canali di chissà quale tipo, andrei a prenderli là perché effettivamente quelle persone lì devono essere salvate, però parlando di immigrazione irregolare, quindi di clandestini, perché sappiamo tutti che gran parte di quelli che arrivano qua non hanno diritto d'asilo, non hanno diritto di protezione internazionale, sono per lo più migranti economici, sono spinti sicuramente dalla fame, da condizioni di vita meno agevoli della nostra, per l'amor del cielo, ma trattando così il problema non lo risolveremo mai e soprattutto aumenteremo i livelli di iniquità sociale che già nel nostro paese sono altissimi, perché se mi vengono a parlare che dobbiamo organizzare la formazione dei profughi, l'integrazione dei profughi, insegnargli un mestiere, farli lavorare, allora io mi chiedo, ma tutti i nostri disoccupati, e le assicuro che ce ne sono tantissimi nelle nostre città, ci sono tantissime persone che hanno sofferto la crisi dell'edilizia, ci sono tantissime persone che non sanno come sbarcare il lunario, che non sanno come pagare gli affitti, tutti i nostri disoccupati, perché non ce ne occupiamo prima di loro? Perché non investiamo risorse per fare un piano, che ne so, di tipo keynesiano, per dare loro da lavorare? Una volta che abbiamo sistemato i nostri disoccupati o comunque abbiamo dato un'impronta forte a una politica di attenzione nei confronti del disastro sociale che le nostre periferie stanno subendo, allora a quel punto, magari, potremmo occuparci anche dei profughi.